che mi auguro e che ci auguriamo che quella sia l'ultima data e cioè che veramente dal primo se non dal primo maggio dal 2 si riprenda una normalità normalità che noi ristoratori e pubblici esercizi intendiamo di pranzo e cena Federica Subban presidente provinciale della Fipe un po' se l'aspettava che di fatto per tutto aprile non si parlerà di zona gialla e che quindi per i ristoratori si profili un altro ulteriore mese di passione dopodiché l'auspicio è che la zona gialla possa essere addirittura superata già che quella sarebbe la normalità attenzione però la rassegnazione con la quale la categoria sembra cogliere la notizia non riesce a nascondere la forte preoccupazione i pubblici esercizi ragiona la Subban semplicemente non ce la fanno più e per spiegare meglio la loro situazione sintetizza cosa sono stati per loro i primi mesi di quest'anno giunti a seguito di un 2020 già vissuto sul fronte dei ristori e di fatto con assai poche certezze siamo partiti con un 2021 contratti al massimo con un gennaio praticamente quasi tutto arancio con un minimo di respiro su febbraio dove ha messo in moto proprio l'entusiasmo la voglia di ripartire da parte di tutti e ha dato quel minimo ma minimo di ossigeno perché ripeto si lavorava sempre sulla pranzo di conseguenza certi numeri non si riusciva assolutamente a farli è chiaro che ripiombare a marzo e avere una prospettiva di riapertura maggio questo sta creando grossissimi problemi ovviamente dal punto di vista economico ma a questo punto proprio di tenuta mentale al momento spiega ancora la Subban in vista di una riapertura che potrebbe trovare comunque tutti pronti a ricominciare è necessario che le associazioni di categoria mettono in campo tutto quanto è loro possibile per rispondere alle necessità di chi dopo avere in qualche modo retto per tutti questi mesi potrebbe però non farcela all'ultimo miglio bisogna stare vicino aiutarli psicologicamente aiutarli ad affrontare quest'ultimo passaggio attraverso magari un accesso al credito o una riduzione uno slittamento per quanto riguarda gli affitti che un altro problema molto grosso ma quello che ovviamente non viene magari preso in considerazione non viene parlato è ovviamente tutto il personale i nostri collaboratori che si d'accordo hanno la garanzia di una cassa integrazione ma che non ricevono o ricevono in tempi molto lunghi grazie grazie grazie